Al termine della prima tappa dei seminari sul sistema di antintrusione qui a Roma e al quale farà seguito quella di Pesaro e di Firenze, siamo con il presidente dell'Ordine dei Periti di Roma, Giovanni De Baggis. Queste iniziative testimoniano il bel gioco di squadra tra produttori, installatori e progettisti. È quindi la strada giusta? Sicuramente questa è la strada che è stata intrapresa ma è corretta perché in questo modo sia gli installatori, sia i produttori ma anche i progettisti hanno sicuramente una visione d'insieme e quindi possono essere d'aiuto l'uno con l'altro. Quali le esigenze del progettista e come voi come ordine date risposte? L'Ordine dei Periti è comunque sempre a disposizione sia dei produttori sia degli installatori. per supportarli in quello che è la loro attività e sicuramente nella parte progettuale noi siamo esattamente le persone più indicate per questa attività. In un periodo di grande evoluzione del mercato e delle tecnologie, quale sarà l'evoluzione di questa figura? La figura del progettista diventa fondamentale perché il progettista è la persona che ha le conoscenze sia tecniche sia giuridiche sotto certi aspetti per poter aiutare il mercato a evolvere. Grazie a tutti.